che può lanciare lungo, 30 secondi oltre i 3 minuti di recupero concessi dall'arbitro Pairetto. Parte il lancio di consigli, campioni d'Italia! Campioni d'Italia! Campioni d'Italia! Campioni d'Italia! Per 19 volte! Campioni d'Italia ragazzi! Campioni d'Italia! E' Inter, campioni d'Italia, è certificato eh! Bravo! Bravo! A Mauro Bellugi! Mamma mia! Saluto a Mauro di tutto lo studio! Pazza in te la mano! Segui là! In grosso per togli in città! Può curare una vita, una sola partita! Pazza in te la mano! Un cazzo al campo, c'è un nuovo campione! E' un dino che parte da questa canzone! Pazza a Mauro di tutto lo studio! Pazza a Mauro di tutto lo studio! Pazza a Mauro di tutto lo studio! Yes I am in te! Yes I am in te! Oh 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 oh! Ma che lo cambiano i colori! Maurone! Di un corpo con la stessa voce, gli occhi con la stessa voce! Siamo noi! Solo noi! I nostri cuori in mezzo al campo Saranno sempre al tuo fianco Una prova generale per lo stadio In ogni attacchio e ogni difesa In trasferta come in casa Siamo noi Siamo noi Yes I am Era la sera del 9 marzo 1908 Era un po' più di 40 Ora siamo milioni Sempre E solo Forza Inter Yes I am Yes I am Inter Yes I am 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 Black and blue Black and blue Siamo internazionali noi Black and blue Marcello Marcello Bravi ragazzi Bravi 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 Marcello